Laura Garavaglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuta, anzi, bentornata, perché è un appuntamento annuale da un po' di tempo e ci fa piacere condividere questi versi che Laura Garavaglia ci porta, versi di un festival, un festival internazionale che si tiene a Como nei prossimi giorni dal 23 al 26, mi correggo? Fino al 28. Fino al 28, ecco, fino al 28, il 28 maggio 2024, Europa in versi. Il festival internazionale di poesia della Casa della Poesia di Como. Prima di entrare nel festival, Laura Garavaglia, ci faccia entrare nella Casa della Poesia, perché è da lì che tutto nasce. Certo, dunque, la nostra è un'associazione che ormai, diciamo, è stata fondata nel 2010 e poi dal 2011 abbiamo iniziato appunto a organizzare questo festival internazionale di poesia che ormai dovrebbe cambiare nome, dovrebbe chiamarsi il mondo in versi, perché in realtà ci sono poeti che vengono, sono passati più di 200 poeti da tutte le parti del mondo, a partire dalla Nuova Zelanda fino a, diciamo, tutta l'Asia, il Medio Oriente, Europa, America Latina, Stati Uniti, eccetera. E noi facciamo anche delle, oltre a questo festival, ovviamente abbiamo altri eventi durante l'anno, quindi presentazioni di libri, di autori giovani o meno giovani, oppure sempre unendole magari a mostre d'arte piuttosto che a eventi con poesia e musica, laboratori anche di poesia nelle scuole per i ragazzi, ad esempio per quanto riguarda il festival, i giovani di alcune scuole superiori di Como e dell'università si preparano sui testi dei poeti e poi durante gli incontri che facciamo con loro, diciamo così, mostrano come hanno trasformato in altre forme d'arte che vanno dalla pittura, alla fotografia, a pièce teatrali, a traduzioni, i testi su cui hanno lavorato durante l'anno. E questo rappresenta, questo rappresenta, ci stava raccontando lei, Laura Garavaglia, proprio la poesia in movimento, che è il vostro titolo, un ponte tra culture, ma andando a creare questo ponte, voi avete due paesi che sono ospiti dal punto di vista poetico al vostro festival, la Corea del Sud e il Messico, ma diciamoci subito che non sono due scelte casuali, anzi sono scelte molto importanti e collocate all'interno anche di un calendario storico non da poco, ce lo racconti? Certamente, perché allora in particolare per quanto riguarda, innanzitutto sono due culture che possono sembrare veramente lontane e lo sono lontane sia dal punto di vista proprio della dimensione culturale, della storia e tutto, però c'è proprio questo ponte che le lega che è quello dell'interesse della poesia, che comunque, io sono stata sia in Messico sia in Corea, è un genere ancora molto presente e rispettato dalla popolazione. E dato che la poesia è l'espressione più alta dei sentimenti umani, ovviamente non ci sono barriere e è, grazie anche all'attività della traduzione, è un modo per legare anche culture molto diverse tra loro. Quest'anno noi abbiamo scelto la Corea in particolare, verranno quattro importanti autori, perché ricorrono le celebrazioni per i 140 anni dalla firma dei trattati diplomatici nel 1884 tra Corea e Italia. Del resto l'Italia è sempre stata un paese molto vicino alla Corea, anche dopo, durante la guerra di Corea degli anni 50 al 53, ma anche negli anni immediatamente successivi quando il paese era allo stremo. Addirittura, anche sotto le Nazioni Unite, l'Italia aveva attivato degli ospedali di campo per aiutare i feriti o comunque le persone bisognose. E questo rapporto, questa relazione tra Corea e Italia è ancora molto presente. Noi siamo stati, abbiamo avuto così anche ospite e verrà anche al festival ospite il signor Kang che è il console generale appunto della Repubblica di Corea del Sud a Milano e anche lui ha detto che effettivamente in Italia si sta attivando molto l'interesse per il loro paese. Pensiamo solo alla Liu, l'espressione cinese che vuol dire appunto K-wave, alla K-pop, alla filmografia, alle varie diciamo serie televisive tipo Squid Game, quindi a quella che è la cultura di massa coreana che sta veramente interessando molto anche i giovani in Italia. E noi vorremmo far conoscere anche la poesia perché comunque la prosa sta prendendo anche in Italia piede. Cito solamente la scrittrice Han Kang che ha scritto dei bellissimi romanzi come L'ora di greco, Atti umani o La vegetariana. Meno conosciuta è la poesia coreana. Noi peraltro abbiamo pubblicato negli anni scorsi Choi Dong Ho e Kim Kho Seul che sono fatti tradurre e pubblicati dai quaderni del Bardo Edizioni e quest'anno presenteremo una rivista di poesia coreana con anche un apparato critico molto corposo ed è una chicca proprio perché abbiamo affidato ad una docente di lingua e letteratura coreana, la professoressa Altea Volpe, la traduzione di tutta la rivista dal coreano all'italiano poi la presenteremo durante i vari eventi. Per quanto riguarda il Messico, ecco io sono rimasta devo dire affascinata a parte che la poesia messicana è qualcosa di straordinario e che si rifà anche oggi a quello che è un po' il faro per loro Octavio Pass sono rimasta affascinata dall'interesse che un po' tutta l'America Latina e in particolare anche il Messico che ha appunto una storia, una letteratura molto importanti l'interesse che questo paese ha per la poesia dove davvero alle letture poetiche sono presenti centinaia di persone e questo appunto voglio dire mi rincuore io quando vado all'estero e vedo queste cose mi fanno ben sperare anche per quanto riguarda l'Italia dove la poesia è un po' un genere considerato di nicchia anche se ultimamente vedo questo fenomeno che secondo me è verificato dopo il Covid sta interessando sempre più persone e questo mi fa molto piacere. E adesso andiamo a scoprire le altre possibilità di interesse per quello che riguarda Europa Inversi il premio internazionale di poesia e narrativa Europa e questo credo che sia molto importante dialogare intorno alla poesia ogni anno e poi sentire per così dire Laura Garavaglia sentire il polso dell'andamento della parola poetica e allora le chiedo subito come sta la parola poetica oggi dal suo punto di vista? Io credo che stia bene nel senso che comunque ci sono tanti giovani adesso sarebbe troppo presto secondo me dare un giudizio sui giovani poeti emergenti italiani perché ovviamente è poi il tempo il più grande giudice di tutto però io vedo che c'è un grande interesse appunto sta nascendo, sta crescendo come dicevo prima un forte interesse per questo genere poetico fatto sta che al nostro premio sono arrivati tantissimi libri di poesia edita ma anche di poesia inedita e ne sono arrivati un buon numero anche da giovani poeti a cui poi appunto durante la manifestazione durante l'evento del 25 che è un po' l'evento plus sabato 25 in Pinacoteca Como daremo, assegneremo appunto un premio e l'assegnazione del premio è molto importante perché il vostro presidente è un riferimento straordinario se lo racconti Sì, sì, noi abbiamo come presidente appunto il poeta Milo De Angelis che sicuramente è una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea e peraltro anche in giuria abbiamo un critico letterario di spessore che ha proprio un'attenzione particolarissima sulla poesia che è Roberto Graverni che scrive appunto sulla lettura del Corriere della Sera poi abbiamo anche un poeta importante che è Bruno Galluccio Lo stesso Davide Rondoni che se non sbaglio apre Esatto, Davide Rondoni non sarà in giuria ma aprirà il festival anche lui è un nome molto significativo abbiamo voluto appunto che quest'anno fosse lui il 23 di maggio ad aprire il festival presso The Art Company una galleria d'arte con cui collaboriamo qui a Como e parlerà appunto proprio del rapporto tra la natura e la poesia che cos'è la natura? chiediamolo ai poeti che è anche il titolo di un suo bellissimo libro e quindi sarà presente alle 18 appunto presso The Art Company poi comunque seguiranno tutta una serie di eventi a partire dal 24 dove saremo prima nelle scuole all'università al pomeriggio saremo al consolato nella Corea del Sud della Repubblica di Corea del Sud a Milano poi il 25 mattina saremo sabato sempre in un'altra scuola in un liceo Teresa Ciceri e al pomeriggio appunto come dicevo sarà il clou del festival in Pinacoteca Civica dove avverranno sia le letture dei poeti invitati sia anche la premiazione appunto dei vincitori e finalisti del premio letterario che è sia di poesia che di prosa io vorrei però sottolineare una cosa importante perché un conto è la parte pubblica e certo ha una sua importanza però lei Laura Garavaglia ci raccontava della vostra assidua presenza nelle scuole quindi il verbo seminare lo coniugate in modo continuo e questo credo che sia molto importante perché solo andando a incontrare i ragazzi nelle scuole, nell'università si ha anzitutto uno scambio e poi si ha soprattutto la possibilità di far innamorare questi ragazzi della parola poetica che non è altro da questo tempo ma la parola poetica forse ci aiuta se non a capire questo tempo almeno a sollevare le domande certo sicuramente io ritengo che sia importantissimo passare il testimone della poesia ai giovani perché sono loro il futuro della poesia e oltretutto davvero se gli si forniscono i testi perché tante volte purtroppo le scuole per tutta una serie di motivi non curano molto la poesia e si fermano nei loro programmi che ne so, agli ermetici non vanno oltre ma anche per ragioni di tempo io credo se invece si forniscono ai giovani come facciamo noi con i laboratori i testi dei poeti e si dice loro cercate di capire quali emozioni o positive o anche negative perché no questi testi vi suscitano li si fa ragionare su quello li si fa come dire riscrivere magari il testo in base ai loro sentimenti oppure come dicevo prima trasformarlo in altre forme d'arte i ragazzi fanno delle cose straordinarie in un momento successivo poi arriva il background storico la storia il contesto in cui il poeta deve essere inserito e quant'altro ma il primo impatto è proprio la parola che deve arrivare al cuore e alla mente nella grammatica e nella sintassi dei giovani per l'appunto perché questo è importante se no diventa tutto un piovere su una pietra lavica questo è molto molto importante Laura Garavaglia ce l'ha un libro di poesia portata di mano in questo momento? Sì io se posso leggere una poesia vorrei leggerne una che può essere anche molto significativa e importante per i giovani tratta appunto da Lost Alley i viali perduti di questa poetessa coreana Kim Kosul che verrà quest'anno al festival e se posso leggerla ecco dunque il libro è edito appunto dai quaderni del Bardo leggo in italiano ovviamente viali perduti molte storie si nascondono nei viali i viali dell'infanzia erano un insolito angusto labirinto non si potevano chiamare viali quelli di racconti infarciti di chiacchiere il primo giorno di scuola elementare a Seul non potevo che disegnare viali tortuosi quando il preside mi chiese di tracciare una mappa del percorso da casa a scuola ricordo ancora il suo sguardo imbarazzato per l'ingenuità di una ragazzina così cominciò la mia infanzia a Seul sul viale in salita era il viale del dolore sul quale cercavo di superare l'accento provinciale e le lacune della mia formazione ah superai i viali dell'amore e del dolore nei giorni della giovinezza la stanza fredda in cui la poesia assorbiva me e le mie sorelle era anch'essa un viale lungo come un treno la vita è un viale mentre cammino tra i singhiozzi del fiume tortuoso di amore lacrime speranza e frustrazione verso i viali che scorrono stretti e bassi sento che posso recuperare il tempo perso e questa era la poesia che ci ha fatto ascoltare Laura Garavaglia ci ricorda l'autrice Certo Kim Ko Sul che è poetessa e anche docente professore merito dell'università di Yupsung a Seoul in Corea del Sud ed è anche una esperta di lingua e letteratura angloamericana sarà presente quest'anno al festival insieme ad altri poeti come Choi Dong Ho Song Yo Sung Song e Yoseong Hong e quindi scusate la mia pronuncia purtroppo non potremmo fare di meglio noi a Laura Garavaglia non si preoccupi e questo credo che sia veramente quello che ci ha raccontato quello che ci ha fatto ascoltare anche attraverso il testo poetico per ritornare a quello che ci dicevamo in apertura di conversazione è proprio la creazione di ponti quello che lei ci ha ci ha raccontato in questa conversazione la poesia cerca proprio di creare dei ponti e sappiamo molto bene quanto oggi abbiamo bisogno di questi ponti senza che ci siano troppe persone che stiano a pontificare in ogni modo intanto grazie davvero Laura Garavaglia per il tempo che ci ha dedicato per averci raccontato ancora una volta con passione profonda conoscenza la poesia attraverso il festival che si svolgerà a Como dal 23 al 28 maggio 2024 Europa in versi grazie ancora e buona poesia grazie grazie a tutti gli ascoltatori del posto delle parole grazie mille grazie a tutti grazie a tutti